la super classifica da discoteca cura del DBM department, dipartimento bella musica. DBM Pog, funk it down. Questa è la numero sette, otto, otto tre. Quella che state ascoltando, la versione remix, un grandissimo successo tratto da un album che ha già vinto il disco d'oro in Italia, perché ha superato le centomila copie di vendita. Hanno ucciso l'uomo ragno, nella DJ parè degli otto, otto, tre. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a anche l'industria del caffè. Solita notte da lupi nel bros, nel locale sta suonando un brus de tristos. L'occhi di vita al bancone del bar, pieni di whisky e margarita. Tutto ad un tratto, la porta a farla, il bar c'entra di corsa con una novità. Lui da figurati in mormonare, i cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi è piattato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. 8-8-3 da Radio DJ Network era il remix, fa fa fa, remix di Hanno ucciso The Spider-Man, l'uomo ragno. Su Radio DJ continua la DJ Parade con la sesta posizione che è di DJ Malella, We Must Be Free. Che poi, secondo me, dice i maschi qui. Comunque, voi continuate a sostendere la vostra teoria. Chi è questo? Chi è? Chi è? Chi è? This is Malella. Malella! On Radio DJ. Sapete che Malella ci tiene, no? Che c'è lo speaker che dice il suo nome. We Must Be Free, la Radio DJ, la DJ Parade. It must be free, it must be free. We want to free the world, we want to free the world. It must be free. We want to free the world, we want to free the world. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.